Ha preso il via davanti al presidente della Corte d'Assise, Filippo Editodaro, e alla Corte il processo per la morte violenta di Natale Naser Baierì, il ragazzo di 21 anni trovato senza vita in una zona di campagna ai piedi di un viadotto a Manduria, nel Tarantino. Dopo alcuni giorni di indagini, gli inquirenti hanno individuato i presunti responsabili dell'omicidio del giovane e hanno fermato e poi arrestato tre persone ritenute responsabili a valutitolo dell'assassinio. Si tratta di tre giovani, un 19enne, un 22enne di Manduria e un 22enne di Grottaglie, che dovranno rispondere ora dell'accusa di concorso in omicidio pluriaggravato. I giovani devono rispondere anche di tentativo di soppressione di cadavere e rapine delle aggravanti dell'aver agito con crudeltà e del metodo mafioso. Le indagini sono state portate avanti dagli uomini della squadra mobile della questura di Taranto, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che è competente per territorio e ha coordinato l'inchiesta. Secondo quanto ricostruito dal PM Emilto Stefano De Nozza, l'omicidio sarebbe avvenuto altrove e solo successivamente il cadavere della vittima sarebbe stato portato sul posto. Il corpo senza vita del 21enne di origine Montenegrin, residente a Campi Salentina, in provincia di Lecce, era stato trovato la mattina del 23 febbraio scorso ai piedi di una scarpata nei pressi di Manduria, sulla strada che dal Tarantino porta a Oria nel Brindisino. Natale Naser Baiali sarebbe stato seviziato e ucciso prima di essere trasportato sul posto e gettato nella scarpata. In aula il PM Stefano Milto De Nozza e gli avvocati hanno esposto e valutato le questioni periminari per poi entrare nel vivo delle richieste del pubblico ministero. Chiedo altresì di acquisire i decreti autorizzativi dell'acquisizione del traffico telefonico, nonché chiedo di acquisire le foto dei tatuaggi. Perché questa richiesta di prova? Perché lei vedrà che nel capo di imputazione c'è una quota del fatto dedicato a questo episodio.